Ed eccoci pronti per affrontare un altro tema che comunque si collega molto a quello che abbiamo affrontato nella precedente tavola rotonda. Abbiamo accennato al tema della flessibilità naturalmente relativamente al welfare e al benessere delle persone che lavorano in un'azienda indipendentemente dal loro ruolo. Adesso facciamo il passo ulteriore perché come leggete dal titolo in sovrimpressione parliamo di flessibilità e nuovi spazi di lavoro. Questa è la premessa che abbiamo fatto un po' per tutti i momenti dedicati di questa giornata, cioè il modo di lavorare è cambiato. Naturalmente sono cambiati anche gli spazi, abbiamo trascorso un anno praticamente che ci ha visto lavorare da casa, da remoto e quindi lo spazio di lavoro nostro non era più quello di una volta, cioè l'ufficio, l'azienda. Adesso stiamo sperimentando una via di mezzo, quindi un ibrido. Spesso lavoriamo in ufficio, spesso lavoriamo da casa, bisogna trovare la giusta dose di questioni che hanno a che fare con tutto quello che è l'obiettivo, che ci permette di raggiungere l'obiettivo del lavoro. Insomma le aziende, e lo abbiamo detto più volte durante questa giornata, si trovano di fronte a delle sfide enormi e anche a proposito di spazi e tempi di lavoro c'è ancora molto lavoro da fare. Ripeto questa parola perché siamo solo all'inizio, siamo all'inizio perché naturalmente non siamo più nella fase dell'emergenza o comunque non dobbiamo più ragionare con l'emergenza nella testa, ma a livello strutturale. Anche questo è fondamentale. E allora, io saluto subito in studio con me Federico Andrea Alessio, Chief Experience Officer Copernico IVG Group. Grazie per essere con noi. Grazie a te per l'invito. E saluto invece in collegamento remoto, appunto, questo è una tavola rotonda ibrida, quello che dicevamo poco fa, quindi sperimentiamo anche direttamente con il nostro forum di oggi. Elena Militello, fondatrice e presidente Southworking. Elena, bentrovata, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Ok, e dopo vedremo allora come si combinano bene queste due cose, anche se poi televisivamente parlando non le sperimentiamo spesso. Iniziamo proprio da una domanda che rivolgerei a entrambi, che peraltro ci fa entrare nell'argomento. Intanto vi chiedo anche di spiegarci perché siete qui a parlare di flessibilità per quanto riguarda gli spazi del lavoro, no? Così per introdurci ancora al meglio nell'argomento. Si è parlato molto di tante cose, smart working, lavoro agile, remote working oppure lavoro remoto, se preferiamo l'italiano. E naturalmente sono emerse anche altre tendenze tipo il co-working, il south working. Cerchiamo di mettere insieme tutti questi punti, tutti questi nuovi modi di lavorare a seconda della vostra esperienza. Cos'è accaduto in questo anno, anno e mezzo ormai? Allora, Federico, parto da te. Bene. Sì, sicuramente oggi siamo in uno spazio ibrido, siamo in un ambiente ibrido dove stiamo collaborando insieme, stiamo facendo delle attività insieme, ma siamo in luoghi differenti, ciò nonostante stiamo creando valore. Questo probabilmente è la sfida che stiamo affrontando, non è il futuro, è proprio veramente l'oggi. E quindi il concetto che andremo ad affrontare è come andiamo a preparare gli spazi, come andiamo ad acquisire strumenti di modo da supportare questa nuova modalità, questa diversa modalità per lavorare. Perché è importante lo spazio per voi? E poi dopo vado naturalmente da Elena. Allora, lo spazio è uno strumento, è uno strumento come tanti altri. Lo spazio ha in sé, come luogo, con tutte le definizioni di luogo, una quantità di informazioni che continua a rilasciare, continua a stimolare. L'ambiente stimola l'essere umano, lo accelera o lo rallenta. Quindi quando parliamo di ergonomia dello spazio, parliamo di quello spazio che ha la capacità di supportare le attività per le quali è stato inventato, per le quali è stato realizzato. Quando passiamo dallo spazio all'ambiente, come ne abbiamo appena parlato, lo spazio diventa una componente, perché è supporto a un ambiente più ampio, all'interno del quale c'è tecnologia, spazio fisico e supporti di diverso genere, e tutto insieme creano l'ambiente accelerante o meno. Certo, è corretto dire che la vera sfida è quindi far sì che, indipendentemente dallo spazio a cui ci riferiamo, ci siano le condizioni identiche per poter lavorare e raggiungere gli obiettivi tutti insieme, è quella la vera sfida. Perfetto, condizioni ideali. Esatto, anche perché poi sono parole che usiamo tutti, ma adesso si tratta di capire se le utilizziamo nel modo corretto, a partire proprio dallo smart working, che è quello che insomma ormai citiamo quotidianamente. Allora Elena, stessa cosa chiedo a te in base alla tua esperienza, che cosa ci puoi raccontare? Grazie mille Emanuela. L'esperienza di South Working è nata durante il primo lockdown, quindi a marzo 2020, quando ci siamo ritrovati in tantissimi giovani e meno giovani lavoratori e lavoratrici ad affrontare per la prima volta un lavoro che era fuori dallo spazio, dalla sede del datore di lavoro e abbiamo iniziato a soffrire anche in qualche modo, in questa situazione tragica che vivevamo, anche il dover lavorare da uno spazio chiuso e spesso stretto, come poteva essere la casa. E quindi ci siamo uniti e abbiamo dato vita a un movimento di lavoratrici e lavoratori che però raccogliesse quello che di positivo si poteva trarre da questa esperienza. E però per questo è molto importante continuare a discuterne adesso che stiamo affrontando le varie modalità ibride di ritorno alla normalità, si spera il prima possibile. Il movimento ha raccolto tutta una serie di lavoratori e lavoratrici che erano andati via dal luogo da cui provenivano, o al nord e dal sud, o nelle grandi città dalle aree interne, o all'estero, come nel mio caso, rispetto all'Italia. Abbiamo immaginato una proposta per il post pandemia, una proposta che attenesse insieme il lavoro agile, quindi quel vero smart working di cui parlavamo prima, che non è semplicemente un lavoro da remoto, in cui si riproducono le dinamiche dell'ufficio magari poco produttive da casa, ma un lavoro per obiettivi che costituisca un vantaggio sia per il lavoratore sia per l'azienda e che informi un po' tutta la settimana lavorativa, tutto il mese lavorativo, non soltanto i giorni in cui ci si trova lontani dall'ufficio, e quindi magari si possa far convivere un ritorno o un vivere nei luoghi cui ci si sente più legati, con dei periodi in cui si torna in ufficio, si raggruppano le attività che non sono cosiddette remotizzabili, e si torna appunto a discutere in presenza, magari per i momenti in cui è necessario un maggiore sforzo creativo o un contatto con i clienti. E proprio in questo modo nasce l'idea del co-working, cioè l'idea di dotare anche quegli spazi del sud, delle aree interne, in cui spesso mancano degli spazi aggregatori, dei luoghi confortevoli in cui si possa lavorare, e invece appunto mapparli, crearli, stimolarne la crescita in maniera tale che si possa anche da quei luoghi più lontani, più colpiti dallo spopolamento e colpiti dalla carenza di servizi e infrastrutture, invece andare a dotarli di spazi adatti alle esigenze dei lavoratori da remoto o addirittura agili. Assolutamente sì, Federico prima di proseguire poi con il ragionamento e capire insomma come stanno cambiando proprio le modalità degli spazi del tempo, Elena ha usato questa espressione, dobbiamo andare verso il vero smart working, cosa significa? Nel senso che è chiaro che poi nel periodo di emergenza tutti abbiamo dovuto fare di necessità virtù, questo fino a un certo punto è anche normale, però spesso magari si sortisce l'effetto contrario, cioè mi spiego meglio, adesso tutti siamo abituati magari a gestire anche il lavoro da casa, però chissà quanti lo fanno in modo errato e questo è poi, anzi rischia di diventare controproducente, per l'operatività e la produttività aziendale, quindi ti trovi con questo vero smart working? Cioè a che punto siamo secondo te in Italia? Adesso pur parler ovviamente. Sì sì, infatti non ho la velleità di poter parlare della normativa o comunque di tutti gli aspetti dei lecciar. Ma poi le regole dovranno ancora arrivare perché abbiamo anticipato un po' i tempi, no? Sì, abbiamo dato, cioè il Covid sicuramente ha scosso l'albero, ha dato comunque una spinta, un'accelerazione decisa, anche perché la normativa esiste, l'abbiamo fatta molto bene noi come italiani, però c'è un presupposto che l'azienda debba fare un accordo con i propri lavoratori e difficilmente avrebbero fatto. Quello le regole infatti adesso bisogna fare, no? Al di là della normativa le regole a seconda proprio della struttura aziendale di riferimento. Perfetto, quindi l'azienda dovrà scegliere e introdurle all'interno proprio dei propri regolamenti aziendali per mettere la terra e quindi ancora qua, io parlo più appunto della parte di spazio, è come utilizzare banalmente gli spazi, anche Elena appunto faceva cenno allo spazio ideale per poter lavorare in una nuova condizione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, resto ancora da te Federico con questa domanda, appunto adesso entriamo un po' più nel dettaglio, un po' più nel tecnico se vogliamo in realtà, poi lo spieghiamo in modo molto semplice. Come abbiamo già anticipato, sono cambiati e stanno cambiando modalità e spazi di lavoro. Mi piacerebbe capire quale ritenete sia il nuovo senso dell'ufficio per esempio, no? L'ufficio che non è più quello dove andiamo tutti i giorni, perché appunto molto spesso il nostro ufficio è la nostra casa, oppure uno spazio dove decidiamo di lavorare durante la giornata. E soprattutto come credete debbano cambiare proprio gli ambienti e non solo, anche i tempi e tutta l'organizzazione del lavoro in sé, perché è ovvio che è tutto assolutamente legato, no? Almeno credo, lo chiedo a voi, metto un punto interrogativo anche qui. Allora Federico. Allora, sì sicuramente il concetto di smart working è un profondo cambiamento sul modo di interpretare il luogo di lavoro, il modo di interpretare il modo di lavorare. Si va più verso gli obiettivi rispetto al controllo, quindi il tempo, il pagamento del tempo. Allora, quindi come potrebbe essere questo luogo di lavoro? Passiamo dal posto di lavoro, il singolo posto di lavoro, il biglietto da visita, l'indirizzo, e quindi lì solitamente ci si riferiva quando si pensava al posto di lavoro, con la foto del cane e del gatto, e quindi la nostra scrivania diventava la nostra zona di comfort, ad un ambiente decisamente più flessibile, ma così come anche il mondo del lavoro, estremamente vivace e flessibile. La natura ci insegna che tutto ciò che vivo evolve, e così anche il mondo del lavoro. Quindi il luogo di lavoro di domani, per come la vedo io, la vedo diffuso, quindi non sarà più uno, ma saranno diversi gli spazi, saranno diversi i posti, sarà interconnesso, quindi avrò possibilità di stare in un luogo e anche lavorare con altre persone, sarà sicuramente ergonomico, prima facevamo cenno, l'ergonomia è essere adatto, adatto per supportare determinate attività, deve essere sicuro, oggi abbiamo alzato la sticella sul concetto di sicurezza, sicurezza percepita e sicurezza reale, quindi andiamo dalla tecnologia che si può implementare per fare monitoraggi, sino alla tecnologia che ci facilita, per esempio la prenotazione di una scrivania che non è più la nostra, quella non è solo nostra, sino a invece i protocolli di faciliti, tutto quello che serve per pulire e quant'altro. L'ultimo aspetto è che sarà ibrido, nel senso che sarà digitale fisico, l'ambiente sarà uno spazio ibrido anche in tal senso, quindi non sarà semplicemente ibrido perché lavoro un po' all'indirizzo del biglietto da visita e un po' in altro luogo, ma sarà uno spazio, un luogo ibrido, dove gli strumenti tecnologici, banalmente la suite di Microsoft, non è che sto dicendo cose straordinarie, ci supportano nella nostra vita e nel nostro modo di lavorare. Oggi stiamo facendo una videochiamata e prima era una cosa con la quale avevamo meno affinità, meno abitudine, oggi è normalissimo, cioè fissiamo un meeting? No, facciamo una call, utilizzando questo concedimi. No, no, assolutamente che questo rischia di diventare a volte anche un po' antipatico, possiamo anche sentirci con il classico telefono, invece no, sempre tutti in videoconferenza, però è anche vero che fa parte un po' del processo di cambiamento di cui stava parlando, evidentemente poi bisogna anche un po' affinare tutti questi atteggiamenti sul lavoro. È chiaro che è molto interessante quello che dici Federico, è chiaro che nel momento in cui avremo a disposizione più luoghi di lavoro, definiamolo in questo modo, però dovremmo essere sicuri di avere a disposizione sempre le stesse cose, cioè la stessa tecnologia, la stessa efficienza degli strumenti che devo utilizzare. Quella è la difficoltà, perché appunto se io vado in ufficio, l'ufficio è sempre quello, ho sempre il mio pc e altri strumenti in base al lavoro che si fa, ovviamente. Se un giorno lavoro da una parte, un giorno dall'altra, un giorno dall'altra ancora, beh, si complica un po' la situazione. Decisamente, decisamente sì, l'aspetto della sicurezza è anche una questione di autocoscienza, quindi una postura corretta, quella che viene chiamata normalmente ergonomia della sedia, io posso, devo decidere io come persona di autodisciplinarmi e scegliere un determinato strumento, utilizzarlo e mettermi nelle migliori condizioni per poter lavorare. Lavorare dal divano non è un modo di lavorare, cioè non è il modo giusto. Poi quando invece andremo nei luoghi propriamente deputati, quindi quegli spazi che rimarranno all'interno dell'headquarter, probabilmente quegli spazi lasceranno più, spazio, perdominata autologia, però, lasceranno più metri quadri dedicati al lavoro collaborativo rispetto al lavoro individuale. Questo perché se molto spesso potremo lavorare fuori, probabilmente il lavoro individuale lo risolveremo con minori metri quadri, con minore scrivanie, perché ce le gireremo. Ma quegli spazi collaborativi, l'essere umano è un animale sociale, che ha bisogno di incontrarsi per fare delle cose, per creare valore, probabilmente ci saranno degli spazi che saranno ancora più interessanti da questo punto di vista. Saranno incentivanti, saranno quei luoghi dove vado perché trovo la socialità. E quella socialità fa la differenza. Ti faccio un ultimo inciso, poi vado e torno da Elena, ma ciascuno però, diciamo, parlavamo prima di regole, no? Che ciascuna azienda deve darsi delle regole. Anche da questo punto di vista starà la sensibilità singola, cioè di quale ambiente creare, di che tipo di ambiente creare, giusto? Assolutamente sì. Di fatto la creazione dello spazio non è più appannaggio di servizi generali o chi fa la costruzione, lo spazio diventa la rappresentazione dei valori aziendali. Cioè i valori aziendali, i valori di marca, si esprimono attraverso lo spazio e vanno verso ogni singolo individuo. Perché chi conosce bene quali sono i valori di marca, conosce bene qual è la direzione dell'azienda ed è molto probabile che sentendosi più ingaggiato riuscirà a creare maggior valore. Sì, questo concetto, partendo da presupposti diversi, è tornato sempre, almeno finora, in questa giornata di forum, cioè che emergono sempre di più le potenzialità dei lavoratori, delle persone. Quindi speriamo che almeno anche da questo punto di vista, più da un punto di vista sociale, magari riusciremo ad arrivare verso il pieno riconoscimento del merito e del talento, cosa che a volte, purtroppo, anche per la fretta di tutti i giorni sul lavoro, è un po' lasciato ai margini, però sono tutti accorgimenti che ci aiutano anche ad andare in quella direzione. Bene, mi piace perché stiamo tracciando anche proprio delle righe, mettiamo così tra una tavola rotonda e l'altra, quindi tra un tema e l'altro. Allora, Elena, stessa cosa con te, insomma, anche alla luce dell'esperienza della tua Southworking, da cosa magari, lo dicevi già prima, però da cosa magari è nata l'idea, quali punti avete messo un po' in evidenza quando avete deciso di sviluppare questa idea, ma soprattutto come, credi, cambieranno ancora appunto ambienti, tempi, modalità e tutto ciò che ne consegue? Sì, come accennevo prima, l'idea del nuovo spazio di lavoro per noi di Southworking si basa un po' su una concessione triadica, come diceva Federico, e dunque sulla convivenza all'interno di un periodo di lavoro, di una settimana, di un mese dell'intero anno, di cicli, di fasi, di momenti in cui è maggiormente opportuno vedersi con i colleghi nello stesso luogo, momenti in cui è necessario concentrarsi magari per la redazione di uno specifico report e quindi si preferisce uno spazio a casa, se lo si ha, o invece il terzo luogo, questo terzo spazio che è lo spazio di coworking, che è secondo noi una sorta di presidio di comunità, quindi la rilevanza degli spazi di coworking come spazi per il quartiere, spazi all'interno di luoghi che erano normalmente solamente residenziali, quartieri delle grandi città magari più lontani dal centro, o invece aree interne, quindi meno dotate di servizi e infrastrutture, come possono essere le nostre zone montuose al nord e sui appennini, o anche semplicemente le zone del sud da cui tradizionalmente si andava sempre solo via e si tornava solo per le vacanze. E quindi è necessario garantire dei minimi standard per poter lavorare, come si diceva prima, delle condizioni ideali che vanno dall'ergonomia, anche qui andando a prendere le buone pratiche dalle società, soprattutto devo dire quelle con più dipendenti, quelle che hanno un piede in nord Europa, o comunque in paesi in cui già prima del Covid la discussione sulla convivenza fra più spazi di lavoro e non soltanto la sede aziendale era avanzata. E quindi andare a prendere queste buone pratiche da cui emergono da un lato la dotazione di strumenti di lavoro ai dipendenti che possano essere portati con sé in maniera sicura, anche dal punto di vista della cyber security, della sicurezza cibernetica, se vogliamo dirlo in italiano. Ci sentivo anche fuori onda che discutavamo se è meglio usare termini inglesi e termini italiani, però insomma ci sta, va bene entrambi. Cyber security è un po' difficile, però si può tradurre ovviamente. Va bene. E quindi è proprio andare a dotare, come già in moltissimi luoghi di lavoro si faceva, il dipendente o il collaboratore di un portatile, che poi possa essere inserito in delle dock station, in delle stazioni di ricarica collegate invece ad un monitor esterno, come si propone. E allo stesso modo lavorare sicuramente sugli spazi comuni collaborativi negli uffici e dall'altro lato negli spazi di co-working garantire una privacy nelle cosiddette cabine telefoniche, cioè dotare anche gli spazi di co-working che spesso quando nascono fanno riferimento, soprattutto i più piccoli, a modelli di open space, invece andare a prevedere la possibilità di spazi sicuri in cui in caso di necessità di videochiamate particolarmente sensibili ci si possa un po' chiudere. Io faccio sempre l'esempio del mio posto di lavoro in Lussemburgo in cui già prima del Covid avevamo degli archi fonoassorbenti per cui non si aveva la sensazione della cabina telefonica che dà un senso di claustrofobia, ma invece comunque uno spazio aperto ma che permette di garantire quando è necessario la propria riservatezza. Assolutamente sì, anche questo è molto interessante. Ma sentite, visto che stiamo quasi per chiudere questo momento di questa tavola rotonda, visto che parliamo di flessibilità ovviamente noi l'abbiamo legata ai nuovi spazi di lavoro ma per andare in questa direzione che voi ci avete raccontato serve flessibilità mentale, no? E ripeto, adesso siamo più entrati nell'ottica proprio a causa dell'emergenza, abbiamo dovuto per forza. Però a che punto siamo secondo voi? Perché noi siamo sempre stati abituati come altri non solo l'Italia, però sicuramente l'Italia sia considerare il lavoro come posto, a parte posto fisso ma posto in ufficio, anche con orari di lavoro molto rigidi se vogliamo, cioè si inizia a quell'ora si finisce a quell'ora, quando magari invece una cosa si può fare anche in meno tempo ma senza fare le pa... cioè insomma lo sapete avete capito perché ho visto Federico sorridere anche con la coda dell'occhio, Elena sorridere. Allora a che punto siamo? Giusto in conclusione così per dire anche questo. Federico? Allora sì, sicuramente l'approccio fordista della fabbrica riportata all'ufficio con gli orari, con le campanelle, con una scansione oraria che definisca quantomeno la bontà del nostro impegno perché questo è... tutto è basato su quanto tempo investiamo nel lavoro. Quello che investiamo di più, dopo eccetera, sembrano quasi delle dispersioni. Quindi sicuramente il concetto di flessibilità per il lavoro, per il lavoratore e per le persone è in itinere. Alcuni sono già pronti altri invece si prepareranno. Pareto senza scomodarlo troppo però un 80-20 ci dice che c'è sempre qualcuno che è un pelino più pronto al cambiamento e invece qualcuno che vuole conservare un 80%, quindi una bella fetta che invece preferisce conservare e afferisce al bisogno di sicurezza che tutti gli uomini hanno e nell'ambiente del lavoro, nel posto di lavoro, anche quello di poter andare al proprio posto di lavoro significa sicurezza. Mi dà sicurezza, mi dà routine, mi dà tranquillità. Sicuramente che questo periodo ci ha insegnato che probabilmente possiamo vivere anche in maniera differente, che possiamo soddisfare i bisogni. Anche le abitudini possono diventare altre, non quelle che abbiamo sempre avuto come abitudini appunto. E dietro c'è un mondo, e dietro c'è un mondo fantastico perché ritrovo che ho anche altri bisogni che prima ignoravo perché non avevo tempo di farlo, ma ho altri bisogni e quindi mi sono reso conto che probabilmente posso lavorare in maniera diversa e quindi incomincio a chiederlo anche alla mia azienda e la mia azienda che è fatta di persone, poi c'è anche qualcun altro che se lo sta chiedendo e quindi diventa un rapporto che diventa dall'alto al basso, dal basso all'alto. Allora diventa virtuoso. C'è una frase più o meno, non era così, ma anche il senso è quello che la vita è ciò che succede mentre tu sei impegnato a fare altro, no? Bellissimo, la conosco. Esatto, perché a volte appunto siamo talmente concentrati, ma è anche ovvio, a volte servirebbero giornate di 80 ore, non certo delle ore che abbiamo a disposizione, e però a volte sedersi e pensare aiuta invece a capire che c'è altro. Elena, in conclusione anche tu cosa ti senti di dire? Sicuramente la flessibilità mentale per chi lavora, per i professionisti, per i collaboratori esterni, per i dipendenti è aumentata in maniera davvero accelerata, come diceva prima Federico, c'è stato un salto in avanti delle proprie aperture di 5-10 anni sul tema del lavoro a distanza, sia lato dipendenti sia lato datori di lavoro. Sicuramente questo ha coinciso con un ripensamento delle priorità per tanti di noi che erano esclusivamente concentrati magari su una carriera anche in maniera molto presenzialista, quindi cercare di mostrare la propria presenza in sede il più possibile, invece ci si è riscoperti nel momento della crisi, nel momento della pandemia, come animali sociali, come si diceva prima, e quindi anche una sorta di nuovo ruolo nella società che permette anche nelle ore dedicate al lavoro di essere più produttivi. Per questo parlavo prima di approccio win-win o di reciproco vantaggio, perché da un lato viene una maggiore produttività, dall'altro c'è un recupero delle proprie esigenze, delle proprie priorità, anche extralavorative, che permette alla fine di avere una maggiore soddisfazione del lavoratore. Assolutamente sì, ottimo. Grazie a entrambi, è stato molto interessante, abbiamo aggiunto anche dei punti in più rispetto a quelli che avrebbero dovuto emergere durante la tavola rotonda, ma insomma il bello del forum è anche questo, anzi deve essere questo. Grazie Elena Militello, Southworking, e grazie Federico Andrea Alessio, Copernico, i VG Group, per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie, grazie Elena. Grazie mille. Grazie Elena. E adesso noi continuiamo e parliamo di diversità e inclusione, altri aspetti che non possiamo dimenticare a tra pochissimo. Grazie a tutti.